5 a 4 Citterio mette a sedere tutti ancora lui Matteo Citterio da Riva Azzurra un giocatore illegale in mezzo al campo la spiega tutti salta due uomini si presenta davanti a Coccia e la mette dentro 5 a 3 5 a 3 per il Redlock Cattiveria a 0 qua raga molto male Attenzione però Ma che ha fatto Pici? Ma che ha fatto Pici? Oh mio Dio Ma che ha fatto? Incredibile Antonio Marraccio Giulio Pici Andiamo a rivedere la portata direttamente da calcio ed inizio Ma che ha fatto raga? Pazzesco Siamo vivi No ragazzi ma qua stiamo parlando Devastante Qua stiamo parlando di un giocatore di un'altra categoria ragazzi 5 a 4 5 a 4 ma abbiamo visto dei gol fantastici negli ultimi minuti Potrebbe essere l'ultima azione della partita Ultima azione Prima del dado Ancora con Bangal Che rientra sul destro Sterzata sul sinistro Mamma mia Ne mette a sedere uno Prova con Castiglioni Allarga il pallone per Ancora i Redlock che provano Ad andare in avanti in quest'ultima chance di partita Calcio d'angolo Vediamo se lo fa battere Vediamo se lo fa battere Attenzione Lo andrà a battere Simone Pirali Il numero 9 4 stelle Bangal di tacco Prova ad intendersi E lo fanno benissimo È una proprietà di palleggio illegale Incredibile Toglierla è veramente Mi ricorda Chi è che potrebbe ricordare Bangal? Bangal? Forse il primo Gullit Bangal mi ricorda Il primo De Bayor Bravo Bravo Bravissimo Se no possiamo dire Per restare di tempo Potrebbe fischiare Ma l'abito continua Di andare avanti Con il recupero Allora Zacchino Sul limite dell'area di rigore Ne ha 4 davanti Pensa al tiro Lo prova Attenzione che esce la Fucina La Fucina prova ad andare Per l'ultimo assalto Attenzione Grandissima chiusura Fantastica Ancora una volta Matteo Citterio Pizzi ce l'ha staccato bene Esce Giuliano Che anche con un po' di mestiere Allora finisce Finisce qua Il secondo tempo Attenzione Do la linea Bordo campo Ad Andrea Chimi Per il lancio Del dado Andre si posiziona Al centro del campo Vediamo come giocheranno Gli ultimi 3 minuti I red locks Contro la Fucina Risultato di 5 a 4 Il lancio di Andre Ed è 6 contro 6 6 contro 6 Quindi non cambia nulla Perché ricordo che il portiere Nella nostra competizione Non è conteggiato È escluso Esatto Non è conteggiato È escluso Quindi Le gol hanno fatto 3 Nei minuti prima O 2 Prima ne hanno fatto 2 1 a 1 3 a 1 Poi è finito Dopo il lancio del dado Quindi può ancora succedere di tutto Anche se oggettivamente Non è cambiato nulla Non cambierà nulla Ma Frespe Poi tu sei anche fortunato Perché così non ha Enrix Delle decisioni da prendere Tra l'altro Che non è una roba da poco Noi stiamo perdendo Per il dado del primo tempo Stiate perdendo per quello Assolutamente Beh ti dico Ho fatto scelte Ma il dado ragazzi Sarà una roba Che secondo me Nell'andare avanti Del torneo della competizione È una roba Che bisogna lavorarci Molto bene No no Ma il dado è giusto È la gesto male lui Allora ragazzi Sempre 5 a 4 Negli ultimi 3 minuti Da giocare E Pici è già In zona Super cannoniere Della competizione Con tre gol L'ultima è stata un pazzesco Da centro campo Incredibile Era parabile Secondo te Il tuo portiere Guarda È stato preso Alla sprovvista Però Era un bel tiro Un bel tiro Era difficile Da prevedere Una roba del genere No però te lo vedi Oh raga Quanto è? Da 50 metri? Poi comunque 40 Importa C'è Antonio Iuliano Che non è il primo arrivato Un bel portiere Un bel portiere Si posizionano le squadre Non prende il pallone Castiglioni Allora la possibilità Per la fucina Calcio d'angolo Bravo Ragazzi Attenzione Prova la rovesciata Lui ha quel gioco Lui ha quelle giocate Le può fare Attenzione Completamente solo E poi Iuliano Fa un miracolo Ma che si è mangiato Danese ragazzi Danese Non è finita La fucina ancora Insiste Con questo cross Sul secondo palo Ancora Danese Sempre Danese Poi la palla che arriva Sui piedi Di Lorenzo Roma Che sfiga La tirate in faccia D'Alex Castiglioni In avanti In verticale Per Bangal Che però non riesce A gestire questo pallone Sarà corner Un minuto Ancora Ancora due minuti Per le speranze Della fucina Dobbiamo prendere Un piccolo vantaggio Con molto mestiere Bangal Va verso la bandierina A battere questo calcio D'angolo Almeno una ventina Di secondi Sono andati Parte la conclusione Un po' Velleitaria C'è stata una deviazione Ancora corner Tra l'altro Dalla parte Dove dovrebbero Sempre farli tirare Gli arbitri Che non hanno ancora Capito Però Franova Avrebbero fatti i registi Occhio a questo Un minuto e mezzo Siamo già a metà Oltrepassato In questo momento Dei tre minuti Previsti Per il recupero Per il recupero Un po' Grazie a tutti